Buongiorno. Buongiorno. Giornata molto calda oggi. Il problema di gomme, il problema di Chattering, il problema di compaggio in uscita di club. Insomma, so c***o. Via, tutti dentro. Però, bella giornata. Ciao a tutti. Che ragazzi competenti sono i ragazzi. Questo è un timone ormai è talmente perfetto che si casetta proprio. Non lo saprei. La perfezione? La perfezione? La perfezione? Ragazzi, troppa gente. Poi c'è troppa puzza di p***o. Di passera nemmen l'ombra. Non c'è puzza di p***o. Ma c'è proprio p***o di p***o. Ma c'è proprio p***o di p***o. Ma c'è nella p***o e nell'ombra. Ah, non l'avevo visto bene, scusate. Una perna di oggi che vi potrei dire ragazzi? Che se neanche un caldo di orsi non si sopporti. Quindi speriamo che si mantenga orsi. Dove essere filosofico. L'ultima cartologia di buta. Vada, te la levi e sei già rivestito per quando ti devi andare al cielo. Vada, te la levi e sei già rivestito. Vieni. Come si è vero? Si riposta. E li fa perciò. Eeeh... Non gli dai lo sbannamento? Se non gli gira gli dai lo sbannamento? Non gli gira. Siete sempre. Siete sempre. Ah, ah. Questo è pazzo. No, scusa, non ho capito. La testa è su de spalle. Lasciamo un metro e mezzo la coppia. No, l'ho tenuta. Sì, c'ho anche visto? C'ho anche la parte del calzino. по il tempo. No, lo inizia, eh? Sì, c'è la parte del calzino. Sì, c'è la parte del calzino. Sì.